Soddisfazione notevole in KZ1 la classe regina della classe col cambio per Michele Lenzo grazie al suo Joey Hansen che dopo aver conquistato il mondiale dello scorzone in KZ2 si sta rivelando fra i big anche quest'anno nonostante il cambio di categoria Sì sicuramente siamo molto contenti, è stato un weekend molto positivo sul tracciato di casa tra virgolette di Sarno Ieri nella finale 1 siamo andati altrettanto bene con il quarto posto e oggi abbiamo chiuso con un altro buonissimo risultato che è il terzo posto quindi siamo molto contenti, guardiamo già la seconda gara dove vedremo di fare un'altra volta un altro buon risultato